buongiorno signori sono alessio della robus 3 immobili esclusivi oggi mi trovo a torrino a via fosso del torrino e sono qui per presentarvi un nuovo appartamento in affitto si tratta di un trilocale completamente ristrutturato ed arredato andiamo a vederlo ci troviamo nella parte più verde e risidenziale del nostro quartiere via cina alle mie spalle ospita tutte le attività commerciali principali compresa la virgin 09 e a poca distanza da casa abbiamo ben due supermercati raggiungibili a piedi siamo vicini a tutti i più importanti collegamenti come la cristoforo colombo lo stiense ed il grande raccordo anulare siamo a 4 chilometri dalla fermata della metro b magliana e dal trenino di tornivalle inoltre con gli autobus 0 7 8 e 7 7 7 raggiungiamo l'euro e il torrino eccomi iniziamo con il soggiorno dell'appartamento è molto luminoso ampio silenzioso ed accede direttamente al balcone vivibile della casa questo spazio esterno misura circa 10 metri quadri e pienamente vivibile ed ha un ottimo affaccio aperto a sud ovest molto luminoso le spese condominiali sono di 91 euro mensili circa che comprendono acqua pulizie e manutenzione dello stabile degli spazi comuni qui abbiamo il teleriscaldamento con contabilizzazione digitale la cucina come vedete è pienamente abitabile ed è già attrezzata completa anche di elettrodomestici come la lavastoviglie nella zona giorno abbiamo questo primo bagno dotato di finestra e di box doccia molto comodo per gli ospiti questo appartamento si affitta con un contratto a canone concordato con tassazione agevolata ed è l'ideale per una coppia o una famiglia che voglia vivere in un quartiere ben servito e collegato seppur rimanendo in un contesto verde e riservato questo disimpegno con soppalco ci conduce alla zona notte dove troviamo una camera doppia con il suo balcone vivibile e una camera singola con il suo armadio a muro il secondo bagno invece è interno con l'areatore ed è dotato di vasca da bagno e un comodo e capiente armadio in muratura questo trilocale è in ottime condizioni troviamo infatti pavimenti in gress porcellanato effetto cemento nella zona giorno e il parquet in rovere chiaro a spina ungherese nella zona notte porta blindata con doppio paletto infissi in legno con doppio vetro con grate anti intrusione tapparelle elettriche nel soggiorno impianti elettrico gas e idrico in ottime condizioni e il condizionatore pompa di calore fuji nel soggiorno anche questo secondo spazio esterno è pienamente vivibile ed è comodamente accessibile da l'immobile è in un palazzo con ampio cortile interno all'esterno invece abbiamo questo spazioso piazzale dove parcheggiare e anche per oggi dal torrino sud è tutto vi ricordo come sempre che questo video sarà pubblicato sul nostro sito www.romusre.com e sarà pubblicato anche su tutti i nostri canali social che vi invito a seguire ci vediamo al prossimo video ciao